Lei è soggetto a qualsiasi tipo di regolamentazione, in quanto banca, in quanto Italia, in quanto regolamenti europei, in quanto controlli di ogni tipo e mi chiedo, nel futuro non si esiterà una disintermediazione anche del suo mestiere, così come è avvenuto in tempi precedenti per quello del retail e quindi lei è super regolamentato e rischia di avere anche un processo di disintermediazione e quindi che non utilizzeranno più la banca tradizionale, è fregato? Io devo dire che non sono molto preoccupato di questi nuovi incumbent sul mercato, sono molto d'accordo sul tema dell'esperienza del cliente e del valore aggiunto nella relazione dello stesso, è chiarissimo che qualsiasi servizio, qualsiasi attività a basso valore aggiunto ad alta ripetitività non può che essere in qualche modo automatizzata, ma quando si ha a che fare con le emozioni, con l'incertezza, la variabilità con i soldi, è evidente che se c'è del valore aggiunto, e quindi ci deve essere grandissima professionalità, la tecnologia è solo un acceleratore pazzesco della relazione, semplifica, riduce le distanze, ottimizza i tempi, riduce le firme, elimina la carta... Oggi se uno pensa alle emozioni più forti è la paura e l'incertezza del futuro. Se io ho un patrimonio da gestire, se io ho un flusso di cassa da gestire tra pensioni, assicurazioni, figli, mutui... Io credo che ci sia una... nel momento in cui un operatore riesce a dare quella serenità, uno che non ti sto rubando, non ti sto prendendo i dati, non sto facendo la mia linea di assemblaggio interna per cui devo mettere a posto i tre fondi che ci sono... Cioè quella roba lì, in una incertezza da un lato, in un'ignoranza dall'altra, perché comunque non tutti sappiamo dove stiamo andando, è una sostituzione clamorosa del vecchio signore allo sportello che ti segue per 25 anni in un certo modo. Per cui secondo me c'è molta emozione.